Ciao a tutti e benvenuti a TCG Television. Oggi abbiamo la prima apertura su questo canale di Pokémon TCG e soprattutto riguardante un mazzo tematico che è un mazzo di confini marcati, più precisamente Ice Shock perché è la versione inglese, in italiano sarebbe Fulmini Siderali, che contiene il Kyurem Nero, mazzo tematico riguardante le energie di acqua, fulmine e drago. Andiamo subito ad aprirlo e vedere cosa contiene, anche se abbiamo qui la lista dietro. Andiamo un po' in modo pratico per aprirlo, credo che sia tirare qua. Voilà, si è aperto facile. La scatola contiene un libretto di istruzioni, una plancia di gioco, dei segnalini per i danni e per gli status, un libretto di istruzioni, un breve programma sulla serie. Ci mostra alcune carte, la checklist di confini marcati. Una moneta, vediamola un po', che dovrebbe raffigurare proprio il Kyurem Nero, non so se si vede bene, purtroppo no, però non è bruttina. E il mazzo, questo è un codice che penso sia per il gioco di carte online. Il Kyurem Nero Holo. Andiamo ad aprirlo il mazzo, vediamo cosa c'è. Velocemente. Voilà. Energie, credo che non ci sia tanto da dire. Un Goldback. Energia, Fulmine, Pikachu, Frillish, Energia, poi ricerca Energia, Tata Trainer, Squirtle, Psyduck, Blastoise, una delle cinque rare del mazzo. Energia, Fulmine, Electabuzz, Alta Energia, Lofanni, Electrive, un'altra rara, Buneri, Fulmine, Tata Trainer, Energia, War Turtle, Electrode, Psyduck, Energia. Questa credo sia una Megabull. Volthor, Squirtle, Energy Retrieval, Energia, Pikachu, Goldback, Switch, Energia, Jelly Sand, Aterara, Bannerie, Trainer, Energia, Lofanni, War Turtle ancora. Ricerca Energia, Fulmine, Frillish, Energia, l'altro è Black Turem, sempre raro, Electabuzz, Energia, Comunicazione, Pokemon, Electrode, Squirtle, Energia, Trainer ancora, Pikachu, Volthor, Energia. Energia, Energia, Retrieval, Psyduck e Skylar Trainer. Voilà, fine del mazzo. Non mi sembra male. Ovviamente sono un po' neofita in questo gioco. Ho scelto il mazzo soprattutto per questa carta perché era uno dei miei preferiti all'epoca. Mi sembrava anche un mazzo abbastanza buono da giocare. Questa è un po' neofita in questo gioco. Queste sono le rare. Due. Tre. Questa è un comune. Quattro. Voilà. Uno, due, tre, quattro. più l'altro a volo del Chiurem. Questo è quanto. Ci vediamo al prossimo video. Vi saluto. Ciao e grazie. Ciao e grazie.